Tre nuovi direttori di unità operativa sono in servizio all'ospedale Santa Maria delle Croci da alcune settimane. Sono alla guida stabile di tre importanti reparti, cardiologia, medicina interna e 118 Romagna Soccorso. Questa mattina si sono presentati in direzione sanitaria alla stampa e al sindaco Michele De Pascale. Per la cardiologia il nuovo primario è il dottor Andrea Ruboli. Proviene dall'ospedale maggiore di Bologna e ha esperienze lavorative anche a Vicenza, al Sant'Orso Larmalpighi di Bologna, negli Stati Uniti e in Svezia. Ha gestito vari gruppi di lavoro e ideato e messo in atto importanti novità nella terapia anticoagulante. Nominato direttore per quel reparto di cardiologia, quali sono le priorità? Le priorità sono senz'altro quelle di mantenere il livello molto alto di questa cardiologia al quale è arrivata grazie a chi mi ha preceduto in tutti questi anni che ha veramente portato questa disciplina in linea con quanto viene fatto a livello nazionale e anche internazionale. Quindi questa è certamente una priorità di non disperdere questo patrimonio e poi senz'altro di ottimizzare ulteriormente il rapporto e la fornitura delle prestazioni sempre di alto livello per la cittadinanza. Alla medicina interna troviamo il professor Marco Domenicali, medico geriatra bolognese e ricercatore universitario che ha svolto principalmente attività clinica libero professionale. Per quanto riguarda la medicina interna, come intende muoversi nel reparto? Questa è una struttura di medicina interna piuttosto grande con all'interno multiple vocazioni e attività sia diagnostiche che terapeutiche che ambulatoriali. Quindi adesso stiamo cercando di strutturare la medicina interna per venire incontro a quelle che sono sempre di più le esigenze del territorio, in particolare la gestione della disabilità e dell'invecchiamento e delle malattie croniche che sono, come in tutti i paesi industrializzati, netto aumento e che quindi impattano molto sulla tipologia di paziente ricoverato in medicina interna. Per 118 Romagna soccorso il primario è il dottor Maurizio Menarini, che all'ospedale maggiore di Bologna era responsabile del medico dell'elisoccorso. Per quanto riguarda le ambulanze si prevede una riorganizzazione dei servizi migliorativi? Diciamo che la Romagna dal punto di vista del 118 ha sempre avuto una grande tradizione di efficienza nel servizio 118 e di efficacia nel trattamento dei pazienti. Quello che è il mio compito è di omogenizzare ancora di più l'attività che viene svolta sul territorio è quella di migliorare ancora di più la qualità delle performance che vengono fatte che già oggi sono assolutamente dentro gli standard nazionali e forse per qualche settore ancora meglio di quanto ci viene richiesto.